Se batti Barcellona puoi battere chiunque, specialmente in 90 minuti. Sapevamo che come squadra erano superiori loro, hanno giocatori migliori, però noi abbiamo giocato il nostro calcio. Siamo stati anche fortunati, loro hanno sbagliato un rigore, all'andata si erano mangiati qualche gol. Però noi nel ritorno siamo stati perfetti, abbiamo convertito tutte le nostre occasioni, questo ci ha permesso di arrivare in finale. Tutto ha funzionato come l'allenamento, la mentalità era giusta, ora è tempo di festeggiare. Ora è tempo di divertirsi, sono felice di essere parte del... Sono felice di aver giocato, soprattutto di aver segnato. Arrivare alla finale di Champions è un sogno che diventa realtà per tutti noi del Chelsea, per i tifosi che ci hanno seguito qui fino in Spagna e per tutti quelli che ci hanno seguito a casa. Per noi è la seconda finale di Champions, tutti sanno com'è finita l'ultima volta, i calci di rigore, le polemiche. Il Chelsea meritava di avere un'altra possibilità, ora finalmente possiamo giocarcela.